A Roma la salma di Fabrizia Di Lorenzo, gentilone in visita nei paesi colpiti dal terremoto. Natale a tavola, si spenderanno in media quasi 86 euro a famiglia. È rientrata in Italia da Berlino la salma di Fabrizia Di Lorenzo ad accompagnarla i genitori. È stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad accoglierli all'aeroporto di Ciampino. I funerali si svolgeranno a Sulmona lunedì. Continuano le indagini su Anissa Amri, l'autore della strage di Berlino ucciso dalla polizia a Sesto San Giovanni. Al setaccio una possibile rete di appoggi in Italia. Vigilia di Natale tra la popolazione colpita dal terremoto per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, prima a Norcia e a San Ginesio, Macerata, poi ad Amatrice. La riapertura del centro storico di Norcia è un segno di volontà, di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro. Mi fa piacere se posso incoraggiarla con l'impegno di tutte le istituzioni, ha affermato Gentiloni. Si spenderanno in media quasi 86 euro a famiglia per imbandire le tavole di questo Natale. Quasi 9 famiglie su 10 lo passeranno a casa o con parenti e amici. E' quanto emerge da un'analisi col diretti se solo il 10% ha scelto ristoranti, trattorie o pizzerie. Sarà weekend natalizio di bel tempo e temperature stazionare su tutta Italia. Grazie all'alta pressione sole ovunque per domani e per lunedì di Santo Stefano. Attenzione però alle nebbie, alle gelate e soprattutto sulle pianure del nord. Un buon Natale a tutti da parte mia e da parte della redazione. Arrivederci al 27 dicembre. Un buon Natale a tutti da parte mia e 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 da parte mia.